La sensazione di libertà, di libertà infinita. È l'adrenalina che riesce a dare lo snow kite, sport evoluzione di quello nato sulle onde che adesso ha portato atleti professionisti da tutta Europa a ritrovarsi per la tappa del campionato del mondo italiana Roccaraso. Bisogna fare un percorso selvaggio di salite, di scenze in bolina e a lasco, quindi un pochino di capacità anche di capire il vento, la ghera. Partenza di buon mattino, checkpoint, trasferimenti e poi dopo un'attenta preparazione in via le evoluzioni nella categoria con i sci, quella con una tavola da snowboard perché è arrivato dalla Polonia e dalla Germania ma anche dall'Abruzzo e dal Lazio. Io vengo da Roma e adicolo anche un kite in acqua, però sicuramente lo sport praticato sulla nera, specialmente in quota, è molto emozionante. La gara si svolge in diverse manche, tutte con la formula GPS che permette ai rider di muoversi in libertà, seguendo percorsi sempre più ampi, scelti, comunicati e poi valutati dall'organizzazione, rispettando sempre però le regole di sicurezza. Abbiamo obbligato tutti gli atleti a essere dotati di dispositivi di sicurezza passiva e attiva, per cui hanno dovuto arrivare adesso onda e abbiamo un'organizzazione anche grazie al soccorso alpino che presidia tutta la zona. E' un'organizzazione anche grazie a tutti.